Il Giappone è impazzito per la moda dei denti storti. E insomma, se avete passato anni con quel fastidioso apparecchio che vi impediva di mangiare senza dovervi tenere scorte di cibo tra i denti per giorni, sappiate che per il Giappone avete solo buttato via tempo e soldi. Il fenomeno dello yaeba o canini sporgenti è esploso in Giappone nel 2011, quando la famosa cantante pop Tomomi Itano era sulla bocca di tutti, e abbastanza letteralmente direi. Le giovani fan hanno infatti preso ispirazione dalla loro beniamina e i dentisti di tutta Tokyo hanno visto le loro agende esplodere di appuntamenti con ragazze che richiedevano espressamente l'installazione di un dente finto storto o di farsi direttamente stortare i denti. Anche gli uomini nel frattempo iniziavano a trovare attraente questa nuova pratica, che è entrata a far parte della cultura popolare al punto da generare decine di personaggi in anime e manga dal famoso dentino aguzzo, divenuto noto come Canino Tsundere o Canino Moi. Peccato che poi l'Aitano se lo sia fatto raddrizzare, lasciando tutte le sue fan a bocca storta.